Luca Carpani perché era doveroso come prima battuta dare voce al goleador di questa partita intanto che sensazione segnare un gol davanti a 16.000 spettatori No ma la sensazione è bellissima perché appunto il boato è stata una roba che in Serie C penso non si vede mai però ecco l'importante era portare a casa il risultato, quella è la cosa che mi preme di più era la vittoria, dare soddisfazione ai nostri tifosi e diciamo dimostrare che noi ci teniamo la maglietta Assolutamente l'emblema è il salvataggio sulla linea di Stefano Sturaro che si è lanciato per la causa e quindi va a merito a lui come se ho fatto gole io, cioè la stessa equivalenza perché lì prendi gole una a una in un'altra partita noi lottiamo su tutti i palloni, la squadra si vede che è compatta perché tutti corrono, tutti si sacrificano e tutti sudano la maglia, quindi questo è l'obiettivo e dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista però piano piano ci stiamo amalgamando sempre di più e intanto abbiamo raggiunto una grande vittoria contro una squadra forte perché comunque loro è una squadra costruita per vincere e ci godiamo stasera questa vittoria ma domani pensiamo subito alla Juventus Il mio obiettivo è aiutare la squadra, dare il massimo per i miei compagni, aiutarli in qualsiasi posizione del campo poi ecco se i miei gol portano le vittorie è ancora meglio, io do il massimo per appunto portare a casa il risultato tutti insieme No, io ho visto una palla respinta e mi ci sono buttato, l'ho colpita il più forte possibile e poi è entrata quindi lo devo un attimo rivedere perché lì è stata talmente veloce che mi ricordo poco